I Panzer Leopard potranno fare la differenza sul campo di battaglia in Ucraina? La decisione di forniture tedesche di questi carri d'attacco a Kiev non è stata presa. Lo dimostra la conferenza stampa congiunta successiva all'incontro fra il segretario generale da Nato Stoltenberg e il neoministro della difesa tedesco Boris Pistorius a Berlino. Sulla questione dei carri Leopard non ci sono nuove informazioni. Ripeto che verrà presa una decisione a breve. Peraltro fortemente è incoraggiato i paesi partner che hanno carri Leopard che sono già operativi ad avviare l'addestramento dei carristi ucraini con questi mezzi. Se consideriamo questo annuncio tedesco, ha ribattuto Stoltenberg, l'annuncio da parte di altri alleati della fornitura di diversi tipi di armamenti all'Ucraina ebbene tutto questo rappresenta un enorme contributo supplementare alle capacità belliche di Kiev ed è cosa urgente, importante perché la Russia sta preparando nuove offensive. La consegna a Kiev dei carri Leopard non porta nulla di buono alle relazioni russo-tedesche ha detto il portavoce del Kremlino Peskov. Anzi, lascerà un segno indelebile. Il timore di un'escalation militare e la riduttanza di Berlino ad assumere un ruolo di leadership nel campo occidentale portano la Germania all'esitazione.